Saranno giorni roventi quelli in arrivo sull'Italia centro-meridionale. Secondo infatti le previsioni fornite dall'aeronautica militare, l'anticiclone Minosse farà impennare le temperature dei termometri fino a 40 gradi nelle città. Le massime sono attese nelle giornate di giovedì e venerdì, lasciando trasparire l'inizio di un'estate bollente. Anche di notte il caldo non lascerà tregua, facendo registrare un minimo di 23 gradi. Fenomeni così straordinari sono ormai all'ordine del giorno ed ogni anno i meteorologi si trovano a dover annunciare la stagione più calda di sempre. Ciò anche in virtù del surriscaldamento globale del nostro pianeta che sta portando le persone a dover sopportare picchi estremi. Per questa ragione gli esperti consigliano alle fasce più fragili di rimanere in casa nelle ore di punta o, se possibile, di recarsi in zone ventilate. Un suggerimento valido anche per i nostri amici a quattro zampe ai quali sarebbe opportuno evitare le passeggiate in condizioni di eccessiva AFA.